Il 2020 è stato l'anno dell'e-commerce e anche il 2021 non sarà da meno. In Italia le cose più acquistate online sono abbigliamento, mobili e cosmetici, ma bisogna prestare molta attenzione poiché la truffa è sempre dietro l'angolo. Proprio per questo siamo andati a intervistare Giovanni che lo scorso ottobre ne ha subita una e che ha richiesto di non essere ripreso. Io ho messo in vendita su Subito.it un tavolo, dopodiché il giorno dopo sono stato contattato da una potenziale cliente dicendomi che era interessata e lei era francese però che viveva in costa d'Avorio. Per darmi l'interesse dell'acquisto mi ha detto che era una persona seria e mi ha mandato i suoi documenti. Io di conseguenza le ho mandato anche io i documenti. Dopodiché lei mi aveva fatto il bonifico dicendomi che c'erano dei problemi per la costa d'Avorio e a sua volta dovevo contattare la banca e fargli un altro bonifico per cauzione perché se no non potevo incassare l'importo. C'era anche l'importo del trasporto che poi avrebbe mandato il corriere lei. Di conseguenza io mi sono un attimino sospettito perché questo affare qui non è che mi convinceva più di tanto. Ho contattato la mia banca, la mia banca mi ha detto che non esiste assolutamente questo tipo di pratica. Il bonifico quando viene mandato viene incassato subito. A quel punto lì quando la banca mi ha detto che questo importo non poteva essere incassato, i bonifici sono diretti, non esistono cauzioni di versamento per coprire l'importo, sono andato alla polizia e ho fatto la denuncia. Giovanni alla fine non ha boccato e ha denunciato la truffa ma rischia comunque un furto di identità. Per questo è importante comprare e vendere online con massima prudenza e nel rispetto per la propria privacy.